L'applicazione della leadership gentile nel project management è un fattore chiave e strategico per garantire il successo non solo del progetto ma anche una maggiore competitività delle aziende anche in un contesto di grandi trasformazioni quale quello che stiamo vivendo perché la leadership gentile è una leadership che è caratterizzata basata sulle soft skills e quindi sulle competenze di empatia, fiducia, rispetto per creare un ambiente inclusivo, collaborativo e positivo. È importante applicarla nel project management in quanto il project management è un'attività trasversale che riguarda diversi settori e quindi l'applicazione della leadership gentile all'interno del project management fa sì che le aziende possano essere maggiormente competitive. Il project management gentile quindi combina le caratteristiche del project management e quindi l'attenzione ai risultati e al successo del progetto con l'attenzione del benessere delle persone e del team per raggiungere un equilibrio fra il raggiungimento degli obiettivi del progetto e benessere del team e delle persone che lo compongono. Questo determina maggiore collaborazione, maggiore produttività, maggiore creatività e innovazione e per l'azienda inoltre un potenziamento della reputazione del brand e maggiore innovazione e creatività e ritenzione dei talenti oltre che attrazione di nuovi talenti e di nuove competenze. Grazie.